buongiorno buongiorno oggi pisto merigio giornata bellissima ci sei in giro qualche schialp almeno ci fanno la traccia non dire schialp schialpinista parla italiano va bene schialpinista vediamo fare un resoconto più tardi questo non ti serve no tanto non ce la portare sciasparla a dopo l'america niente gita sociale ecco il motivo perché gli strati di strada chiusa no 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 Grazie a tutti. Un lamento almeriggio. Si vede la mano, si. Canada! Mi è valsa la pena! Mi stanno girando le mani. Ah no? 60 centimetri così. E anche di più, mi sa. E' un lamento almeriggio. Evitiamo di fare questo traverso. Perché siamo degli sciarpinisti coscienziosi. Poi scendiamo da qua che altri sono già scesi e speriamo di riuscire a collegarci alle baite là in fondo. E' una faccia nel giretto. Gitone! Da una gita di 1100 metri abbiamo tirata fuori una di 1500. E' pazza. Vai con Fabrizio te. E tu vai dietro le tracce del tuttio. Sono sempre sorprese. Ci siamo fatti fregare. Però è stato un sciatone della madonna. Ah si, quello si. Quello meritato. Solo che non eravamo preparati a farla così lunga. Vabbè. Allora va bene.